E' iniziato ufficialmente a Pordenone, nei suggestivi spazi dell'ex convento di San Francesco, l'edizione 2011 di Scienza Art Ambiente per un mondo di pace, il festival della scienza promosso dal comune di Pordenone e dall'immaginario scientifico. Per celebrare l'anno internazionale della chimica, il titolo di questa quindicesima edizione di Scienza Art Ambiente è Elementa. Seguendo questo filo conduttore, il festival propone nell'arco di cinque giorni un ricchissimo programma fatto di laboratori, mostre e incontri che costituiscono per i cittadini curiosi di ogni età e per studenti di ogni ordine e grado una materia di straordinario interesse. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Noi come Italia abbiamo una tradizione nel campo della chimica da far impallidire altri paesi che apparentemente sono molto meglio quotati di noi. Basti pensare al premio Natta per la chimica di tanti anni fa, Natta è stato di fatto l'inventore della plastica e degli utilizzi di come oggi ne conosciamo la diffusione. Ebbene, siamo proprio contenti di ospitare a Pordenone un evento che abbia la chimica nell'ambito di questa manifestazione che ospitiamo ormai da 15 anni, che abbia la chimica come filo conduttore. So che sono state preparate effetti speciali, l'immaginario scientifico che ha partecipato con le nostre persone all'interno alla preparazione di questa mostra hanno creato un evento che credo ci lascerà stupiti e invito tutti i pordenonesi a spendere una visita al San Francesco per vedere il risultato di questa operazione. Il festival durerà fino al 16 ottobre. Informazione e programma su comune.pordenone.it slash scienziartambiente